no figliore e signori buonasera e bentrovati dunque ebh iniziato eh stanno ormai diventato se sono molto contento allora va bene giro così arrivo allora vogliamo preparare una cosa in cucina gerdanoddi benvenuto a compila quindi va sono ciao a tutti eccoci qua della live riprendiamo la musichetta di sottofondo di ispirazione per un'altra serata di coding di coding avanzato di scoperte allora due spettatori collegati nessuno che scrive vabbè intanto comincio così che prima comincia già a metà a metà dell'opera come si suol dire allora ok apriamo tutto allora questa sera volevo proseguire il percorso di esplorazione della libreria delfi mvc framework e quindi proseguire la realizzazione della web api rest in realtà non proseguirò quella che abbiamo già chiamiamo già iniziato perché volevo seguire un tutorial di diverso tipo giusto per arrivare come dire a produrre se possibile ovviamente nei limiti delle possibilità qualcosa che fosse un minimo funzionale a livello di funzionalità partendo da un esempio molto più semplice e quindi seguendo un tutorial che mi è stato suggerito direttamente da daniele tetti che è scritto anche da lui il tutorial che è su su medium per lo sviluppo della web api rest seguendo diciamo creando una parte database usando il pattern dell'artive record quindi un po di cose già preimpostate già che fanno parte del del framework in modo da riuscire a implementare qualcosa di magari funzionato comunque quasi completo e come dire concludono un po questo ciclo di discovery su delfi mvc framework in modo da poi andare a vedere magari la prossima volta altre librerie e riprenderlo eventualmente in un futuro magari con la presenza della stesso creatore che eventualmente può far vedere qualche cosa quindi è allo studio diciamo un pochino di un pochino di formule da provare da sperimentare sempre legate al coding per vedere insomma un po come si può sfruttare questo canale per far comunque vedere cose interessanti e eventualmente anche utili e se è possibile stimolanti quindi detto questo un'altra novità è che sono ufficialmente affiliato twitch questo lo dico solo perché è probabile che magari sul canale si vedano qualche novità ad esempio i punti i punti canale che sono una cosa che fino a qualche giorno fa non c'era ovvero la possibilità guardando il canale facendo certe azioni poi vi rimando alla guida di twitch nel caso c'è la possibilità di guadagnare questi punti che si possono poi tra virgolette spendere quindi una moneta virtuale i punti li ho chiamati backfix perché c'è la possibilità di personalizzarli per ogni canale quindi trattando di sviluppo mi sembrava che un backfix non so quant'è l'equivalente in euro e se si può convertire però che avesse un valore abbastanza importante per uno sviluppatore come dire portarselo a casa quindi ogni backfix è sempre ben accetto e quindi ho scelto questo nome per questa moneta virtuale e ci sono delle azioni e al momento dei suoni che si possono lanciare come dicevo spendendo appunto queste monete virtuali che grossomodo salvo casi particolari aumentano guardando il canale seguendo le live e quindi sono un ulteriore spunto in più per poter interagire sia con me sia con gli altri della chat e rendere la cosa un pochino un po' più divertente un po' più stimolante quindi veniamo a noi quindi iniziamo con lo sviluppo di questa sacrosanta web API di prova quindi vedo che qui adesso inizio ad aprire l'ambiente di sviluppo e tutto quello che serve per lavorare come detto noi utilizzeremo Delphi c'era un po' l'idea di magari vedere delle cose anche su ambienti di sviluppo diverso però per il momento siccome vedo che su altre cose c'è già chi ne parla come dire e questa cosa per il momento sta piacendo almeno giusto per offrire qualcosa di diverso da vedere rispetto a quello che si trova in giro su linguaggi già conosciuti come come javascript o come python eccetera io proseguo questa tradizione e quindi per il momento l'idea è quella di continuare a utilizzare Delphi eventualmente poi aggiungendo anche altre librerie altre cose che siano un po' più interattive e un po' più accattivanti quindi c'è allo studio come dire qualche programma per nuovi contenuti quindi ve ne parlerò poi in futuro quando avrò così un po' un'idea migliore su come indirizzare il canale cosa fare vedere eccetera magari delle live un pochino più brevi un po' più ritagliate su un qualche demo non dico già pronto ma quasi in modo che come dire si riesca a concentrarsi più su cose da vedere che non da fare live salvo appunto i live coding propriamente detti e quindi fare le cose anche un pochino più interattive un po' più stimolanti bene iniziamo quindi a lavorare io mi sposto sulla mia visuale con videocamera videocamera con vista iniziamo allora quindi il nostro obiettivo è quello di andare a fare a realizzare una web API a REST usando del FMPC Framework quindi per chi non lo conosce o comunque si è collegato solo ora o non sa di cosa si tratta può vedere le live passate sempre su questo canale oppure usare il comando YouTube nella chat per andare a vedere le puntate che ho pubblicato scusate stasera non ce la faccio perché è già giovedì e siamo a metà settimana ed è drammatico andare a vedere le live che ho già fatto e che ho messo su YouTube sul canale YouTube per vedere di cosa si tratta le caratteristiche di questo framework le caratteristiche che devono avere le API REST per essere considerate tali a tutti gli effetti eccetera eccetera quindi stasera partiremo come dire un po' in tromba diciamo in diretta allora l'obiettivo è quello di progettare un API che banalmente gestisca come nel tutorial che seguo che vabbè non potete vedere ma io poi comunque vi racconterò tutto quello che c'è scritto poi lascerò nella descrizione eventualmente un link per andare a leggerlo è un API di gestione dei clienti quindi in realtà un'implementazione parziale ma molto veloce ma utile per vedere un pochino delle funzionalità che ci sono come dire nel framework e realizzare qualcosa che funzioni in effettivo già da subito e coinvolgendo anche eventualmente accesso a base di dati e quindi già qualcosa che vada a interagire con il database nel tutorial si fa uso di Postgre SQL io farò uso di SQL Server così diciamo variamo un pochino come dire anche gli elementi in gioco dal punto di vista tecnico così una volta che la live è conclusa e di per sé magari pubblicata tra il tutorial e questa live avete comunque chi eventualmente guarda a disposizione anche un esempio di tipo diverso sempre sperando ovviamente che funzioni ma noi facciamo tutto in diretta e quindi cercherò di farlo funzionare nel minor tempo possibile nel miglior modo possibile nei limiti della cosa live del tempo che ci è concesso o che mi è concesso prima di crollare definitivamente quindi una web API per gestire innanzitutto un'entità che sono dati di un cliente quindi la prima cosa che andiamo a fare è creare il nostro database quindi possiamo ipotizzare di creare un database da zero oppure di averne uno come dire già già pronto noi ce lo andiamo a creare quindi ho SQL Server che ho installato la versione direi la più recente di SQL Server lasciata quello che andiamo a fare quindi è creare un database io non utilizzo in questo caso SQL Server Management Studio ma utilizzo un altro tool che mi piace un pochino di più perché come dire lo trovo più interattivo lo trovo molto più veloce soprattutto nelle fasi di editing e di creazione del database quindi andiamo a farci il nostro DB lo chiameremo con una fantasia sfrenatissima quello che facciamo di fatto un CRM chiamiamo CRM così siamo generici e potremo eventualmente riprenderlo e inserirci anche tante altre cose oltre a quelle che vediamo quindi che facciamo andiamo qui facciamo il nostro next quindi metto il nome del database vado a inserire register after creating cioè lo vado a registrare dopo la creazione questo serve per fare in modo che questo tool lo memorizzi con il suo profilo di impostazioni e con un doppio clic banalmente ci si riesca a collegare mi chiede server name ovviamente il mio SQL Server locale metto lo username metto la password locale proprio di sviluppo vado a fare un next quindi qui lascio tutti i parametri di default tanto mi fido di quello che combina SQL Server a suo modo recovery mode non ci serve nulla di particolarmente complesso anche perché questa è una macchina di sviluppo quindi non abbiamo bisogno di gestire dei transaction log complicatissimi quindi con questo semplice wizard queste le SQL che avrà eseguito create database poi set recovery simple do l'execute abbiamo il nostro database e si apre anche la finestra per la registrazione ovvero c'è l'epilogo di quelli che sono tutti i dati del nostro db che noi possiamo utilizzare per c'è già il nome del server username la password un alias quale provider utilizzare per la connessione da questo programma più varie opzioni le directory dove scrivere i change dove fare come dire il dump dei vari statement di modifica del database quindi ci sono un sacco di opzioni in questo programma a me piace molto quindi metto il db l'alias username e password test connection mi dà un ok ho connected vado solo a cambiare qualche opzione ad esempio refresh object on connection lo spengo spengo anche schema organize database 3 in modo siccome io uso di fatto lo schema dbo per tutte le tabelle elimino praticamente un ulteriore livello di raggruppamento e così è più comodo visualizzare le tabelle faccio ok e quindi ho il mio profilo registrato quindi le mie impostazioni di connessione adb che posso utilizzare per accedere direttamente faccio un doppio clic ovviamente abbiamo e qui abbiamo i contenuti del nostro database abbiamo le nostre tables abbiamo le views store procedure le user define function abbiamo tutto quanto vado sulla nostra table e quindi metto new table andiamo a creare una nuova tabella table name la chiameremo io poi in realtà quello che faccio spesso è dare un nome alla tabella al singolare però vabbè adesso vediamo un po' le convenzioni seguiamo le convenzioni dell'esempio ma c'è modo di come dire adattare le situazioni per ogni abitudine per ogni convenzione che siete abituati ad adottare in qualsiasi in qualsiasi in qualsiasi convenienza quindi customer è la mia tabella vado a definire i campi ci mettiamo un id di tipo intero ovviamente deve essere qui c'è un not null deve essere unico una chiave primaria deve essere anche un identity ecco poi se vogliamo andare a customizzare le proprietà del campo con un doppio clic ci si apre una mascherina che ci consente di andare a definire tutto quello che ci interessa di questo campo ad esempio il tipo di dato il fatto che sia un not null qui ad esempio possiamo spuntare la casella della primary key essendo la chiave primaria nell'identity possiamo cambiare il seme possiamo dirgli che parta da 10 che si incrementi di 2 metta la description eccetera eccetera quindi do un ok e abbiamo il nostro campo con il suo tipo le sue impostazioni indicate qui sopra e via via aggiungiamo anche gli altri campi ad esempio possiamo mettere un un full name o un company name chiamiamolo un po' come vogliamo il nevarchar gli diamo una lunghezza di 200 lo mettiamo not null perché questo ci deve essere magari aggiungiamo anche un vat code codice alla partita IVA un chardi anzi un varchar di facciamo 20 anche questo not null poi seguendo l'esempio del del libro che noi troviamo qui del tutorial qui è stato aggiunto anche delle note e in particolare un rating che evidentemente servirà successivamente per quindi andiamo ad aggiungere anche il rating nel tutorial viene usato PostgreSQL qui prendo praticamente gli equivalenti quindi un rating tinyint lo mettiamo not null magari andiamo a mettere anche un default che ci può essere chiaramente di aiuto default constraint name default customers rating mettiamo che di default è 0 magari va da 0 a 5 così se noi non lo mettiamo comunque un valore viene inserito non rimane null e poi mettiamo notes un nvarchar magari max size da utilizzare per note eventuali del nostro cliente che vogliamo memorizzare la tabella ce l'abbiamo quindi una volta che l'abbiamo progettata c'è questo simpatico tastino compile che ci dà di nuovo vedete che fa apparire una finestra dove con le operazioni visuali che noi abbiamo fatto ci propone lo statement SQL o DDL in questo caso da andare a eseguire per la creazione della tabella quindi io ho fatto tutto visualmente da una controllata id int identity not null company name a 200 caratteri virtual 20 not null not null il reddick è not null ma un default a zero questo virtual max è nullable c'è il primary key sul campo id sembra tutto a posto quindi ovviamente io controllo per scrupolo ma in generale con questo tour si va via molto bene molto spediti ed ecco qua la nostra tabella creata di fresco con tutti i campi che abbiamo definito poi c'è modo di cambiare anche valori a certi template ad esempio la primary key che magari è un nome che non è proprio bellissimo questo pick up underscore customer con un numeraccio potremmo chiamarla pick up con un solo underscore pick up underscore customer possiamo sempre andare a cambiare il nome della primary key come vedete lui propone lo statement SQL da eseguire per rinominare la nostra primary key diamo commit quindi noi facciamo tutto visuale e nel frattempo il tool ci va a generare gli statement SQL e noi li confermiamo e pian pianino possiamo creare questa e tante altre tabelle tutte le tabelle di cui abbiamo bisogno per il momento nel nostro caso noi ci fermiamo qui perché abbiamo una una situazione semplice ma che per il momento ci va come dire ci va bene perché potremmo non so inserire anche un record come esempio quindi c'è questa finestra data che è molto comoda per inserire che si può visualizzare sia a griglia sia sotto forma di un form da completare vedete che ci sono tutti i campi che si possono inserire usando una maschera o usando anche la versione a griglia possiamo stamparla velocemente possiamo fare quello che vogliamo allora company name ci inventiamo la classica acme spa quella di will coyote la partita iva facciamo it 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 e così abbiamo 10 0 0 11 caratteri più il prefisso sembra anche il rating non so perché è partito da questo valore ma lo metto a 0 le note ci scriviamo azienda di prova e così abbiamo facciamo il salvataggio e direi che dovremmo aver inserito la nostra la nostra azienda di prova abbiamo un record da provare nel caso poi volessimo testare il recupero di questi dati da dal nostro dal nostro da nostra API ok quindi noi abbiamo i dati però fanno un refresh i dati rimangono qui sono valorizzati quindi a livello di database direi che altre cose particolari da fare non ci sono andiamo a occuparci in questo caso del nostro cosiddetto application server ovvero la parte di web API da fare con delfi MVC framework quindi come facciamo apriamo il nostro delfi abbiamo già scaricato nelle puntate precedenti come si dice nelle serie il nostro il nostro framework quindi abbiamo anche installato i suoi package tra i package vi è un wizard che abbiamo già usato più volte lo lanciamo quindi diamo un bel ok creiamo un nuovo progetto quindi aggiungi il progetto gruppo esistente ma al momento non ha nulla di aperto quindi diamo un numero al web module quindi chiamiamolo crmwebmodule creiamo un controller unit si sample action action filter crude al momento non li mettiamo perché li scriviamo direttamente noi però creiamo anche un controller per gestire la risorsa customer quindi in ottica mbc un controller che gestisce un endpoint della nostra api slash customer in modo da andare a vedere da consentirci l'accesso e l'operabilità con i nostri clienti in questo caso salvati su db teammycontroller lo sostituiamo con tcustomer controller oppure potremmo anche chiamarlo tcms customer controller insomma questo a seconda delle delle convenzioni che ci vengono in mente infatti questo magari chiamiamolo main webmodule customer controller ok quando siamo pronti diamolo ok e lui ci va a creare il nostro progetto vuoto ci chiede ok se vogliamo abilitare la vcl per questo progetto perché lo lanciamo di fatto come una console application ma nulla vi vieta di andare a creare un nuovo progetto ad esempio windows service fargli come dire recuperare gli stessi file e utilizzando gli stessi file andare a a inglobare questa applicazione web in un servizio windows ad esempio anche in un linux daemon quindi sfruttando il fatto che è database e cross platform il vostro server potete piazzarlo dove volete perché delfi mvc framework è pienamente compatibile con tutte le piattaforme supportate da delfi salviamo un po' di file nel nostro progetto quindi facciamo una cartella mvc crm con una fantasy estrema allora questo è il web module quindi facciamo crm lo chiamiamo crm .modules main così siamo sicuri che facciamo anche un po' di namespace come dire poi salviamo anche crm controllers customers che è il controller dei clienti e poi c'è il progetto in sé che è la nostra crm api chiamiamola 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 così crm api va bene o crm chiamiamola come preferite salva e a questo punto proviamo anche a fare un build e così vediamo che percorsi siano a posto dice unit 1 non trovata perché il template usa questo come nome ma noi l'abbiamo rinominato ma non è un problema perché andiamo a mettere dentro lui sta cercando di riferirsi al nostro customer controller perché deve inserire no cosa ha scritto cms è tutta un'altra cosa alla unit del customer controller perché lo deve censire in modo da renderlo visibile all'esterno quindi qui come abbiamo visto nelle live precedenti c'è tutta la configurazione del nostro server c'è anche l'eventuale middleware noi ne andremo utilizzare uno perché faremo uso del pattern active record che è un business partner pattern come si gira la lingua che è molto utilizzato diciamo io preferisco più un approccio a dependency injection ma in certi contesti anche per la sua semplicità continua ad essere molto utilizzato abbiamo qui invece il nostro controller che è praticamente vuoto perché non gli ho fatto come dire specificare inserire quelli che sono tutti i dati i dati del tutti i dati del come dire i template delle azioni di esempio e quant'altro ciao domiros ben buonasera stiamo sto facendo una webpi rest utilizzando un framework che si chiama delphi mvc framework usando usando delphi per consentire praticamente l'accesso a una risorsa in quanto risorsa a dati di clienti che sono memorizzati in questo caso all'interno di un database fatto con SQL server dove c'è una tabella con pochi dati un company name un rating note sui clienti ho già messo una riga quella famosa Acme Spa che è un'azienda che fa gli gadget di Willy Coyote e stavamo vedendo praticamente sto creando un progetto ex novo web da lanciare con un controller che poi andrà a gestire i dati di questi clienti usando il pattern active record e interagendo con le funzionalità del framework sia con la base dati che con l'eventuale client che comunica tramite interfaccia REST con l'applicativo quindi seguendo procedendo con il tutorial in questo punto noi possiamo comunque già mandare in esecuzione questo progetto direi ovviamente mi chiederà di sbloccare di sbloccare il firewall c'è la porta 8080 in ascolto quindi se noi proviamo eventualmente a parlarci non credo che vedremo inizialmente molto perché siamo 8080 vedremo un exception not found perché ovviamente non abbiamo ancora implementato abbiamo un endpoint ma non ci sono azioni non abbiamo all'interno nulla che va di significativo però abbiamo quelli di sistema quelli li potremo invocare che danno come dire informazioni sul sullo stato dell'applicazione eccetera però li abbiamo già usati nei live precedenti quindi non ci perderei ulteriore tempo facciamo fare a questo punto qualcosa a questo server quindi faccio un quit in modo che lo chiudiamo altrimenti quando facciamo un build non riusciamo a non riusciamo a ricompilarci sopra come si vuol dire e andiamo a riempire un po' questi spazi quindi cosa andiamo a fare a questo punto andiamo il gestore che mi crea il server windows firewall è normale sì 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 quindi sì essendo un'applicazione nuova mai vista la prima volta che tenta di aprire una porta giustamente windows avverte il più delle volte è una cosa comoda più che allora quello che andiamo a fare è dichiarare l'entità del nostro customer ossia come dire la struttura dati che conterrà gli dati dei clienti caricati da db o veicolati per essere salvati su db utilizzando però una parte del framework dmc che gestisce il pattern active record sapete quel pattern dove c'è una classe che rappresenta un'entità ma rappresenta anche sia l'entità sia la sua persistenza su db e fornisce dei metodi per implementare praticamente le operazioni crude quindi create retrieve update delete sul database per cui l'entità diciamo è sia un veicolo per i dati sia un contenitore in realtà noi cercheremo di anzi se siamo fortunati dovremo scrivere il minore numero di righe di codice possibile perché il gestore di questa parte del framework ci aspettiamo che faccia la maggior parte del lavoro andiamo quindi aggiungere una unit nuova dove mettiamo la nostra entity ok quindi adesso cercherò di seguire un po' quello che propone il tutorial quindi abbiamo proprio una unit pronta all'uso mettiamo crm entities customer chiamiamola magari quindi do nome alle unit per fare un po' di namespace quindi dare una struttura parola chiave type quindi abbiamo il nostro tcustomer quindi un tipo ovviamente una è una classe tradizionale per il momento e andiamo ad aggiungere dei metodi privati che sono i campi della nostra tabella quindi noi ad esempio cosa abbiamo messo abbiamo messo un un integer abbiamo messo un company name che è una string abbiamo messo il vat code che è un'altra string abbiamo messo abbiamo messo le note che è un'altra string abbiamo messo il rating che è un tiny int quindi in delfi forse diventa uno short int non sono sicurissimo ma in questo caso andiamo ho la memoria tiny int meno 127 227 quindi si da me dovrebbe essere il def dovrebbe essere appunto uno short che dovrebbe avere come indica qui quel range di valori altro abbiamo messo vediamo qui c'è la tabella con i dati vado a vedere nella scheda di dl che mi dà uno spaccato di quello che è la struttura quindi di l'abbiamo messo company nere l'abbiamo messo valcode rating notes direi che abbiamo più o meno tutto come campi questi sono campi privati li esponiamo con delle proprietà che sono come dire un pochino un po' più com'è che l'ho indicato qui no qui l'ho messo minuscolo quindi lasciamolo comunque quindi avremo una proprietà id di tipo integer che legge dal campo id e scrive sul campo id poi vedremo company name che è una stringa che legge dal campo company name e scrive sul campo company name quindi al momento non ci sono come dire non metto metodi di accesso di lettura dei valori di questa proprietà ma abbiamo dichiarato direttamente i campi privati e esponiamo delle proprietà che leggono e scrivono direttamente i valori da quei campi poi avremo property rating che è uno short int così vedremo se il framework riesce a gestire anche questo tipo di dato non particolare perché non è così infrequente però io messo esattamente come sono su db e quindi ecco in questo caso però ci sono questa è una generica entità customer e non ha niente di particolare se non fosse che per poterla interfacciare alla parte di active record dobbiamo in realtà fare uso delle classi e di attributi che sono come dire all'interno del all'interno del framework quindi dobbiamo importarci alcuni namespace alcune unit e alcune ereditare una classe specifica che gestisce ovviamente l'implementazione di active record quindi noi non scriviamo nulla ma dobbiamo in qualche modo ereditare dal framework da qualcosa che implementi la parte che manca ovvero la gestione delle operazioni con questa entità su database quindi step da fare ulteriore aggiungere alcune uses qui ad esempio mvc framework serializer commons poi abbiamo mc framework active record e abbiamo mc framework nullables perché ci sono anche dei nullable type anche se noi non li abbiamo utilizzati ma forse ne riusciamo a farne a meno adesso vediamo quindi la nostra customer è una classe che normalmente dichiarata così erediterebbe dati object che come in java esiste object come in internet c'è object qui c'è t object che è la classe madre di tutte le classi che esistono in delfi qui andiamo in realtà ad ereditare da un altro oggetto che è mvc active record quindi ereditiamo una classe che se andiamo a vedere il sorgente ha già una quantità di metodi virtuali tra l'altro di cui si può fare l'override quindi possiamo estenderla come vogliamo c'è la capacità di andare a recuperare la chiave primaria vedere se nulla vuole leggere dei valori dei campi quindi in questo caso la nostra entità si è arricchita di una serie di funzionalità che consentono la loro gestione sulla tabella quindi sullo storage ovvero sul database SQL server quindi dobbiamo istruirla ulteriormente dandogli ad esempio l'indicazione di quella che è la tabella MVC table è un attributo che consente di indicare il framework qual è la tabella su cui da quale deve andare a recuperare leggere i dati quindi mettiamo customer quindi customer ha delle nuove feature per poter gestire i dati del cliente su DB ha bisogno di sapere qual è la tabella su cui poter agire ecco qui in alcuni casi probabilmente se la classe ha un nome equivalente alla tabella ci sono come dire delle uguaglianze tra i nomi utilizzati e tra quelli indicati gli attributi è possibile che alcuni si possano mettere perché c'è un concetto spesso nei framework MVC di convention over configuration ovvero chiamo il campo ID lo chiamo ID anche qui se dobbiamo andarlo a cercare in questa tabella a meno che non gli diamo un'indicazione diversa cercheremo qualcosa che ha lo stesso nome nel campo se però quel campo ha un nome diverso abbiamo degli attributi con cui come dire andare a installare il framework per istruirlo su quelle che sono le differenze rispetto allo standard quindi volendo potremmo essere il più sintetici possibile in questo caso qui ad esempio sul campo private andiamo ad aggiungere un attributo table field più che per il nome quello che ci interessa in realtà vabbè indicare anche il nome così in questo caso se non vogliamo sfruttare la convenzione abbiamo però il vantaggio che con questi attributi possiamo slegare la nostra implementazione da quella che è la struttura fisica del record su database ovvero se un domani voglio chiamare questo IDENT lo posso fare perché comunque avendo esplicitato qui il nome del campo su db questo ovviamente viene preso così come lo indico e possiamo rifattualizzare il codice come vogliamo ma questo attributo serve a maggior ragione perché dobbiamo dire il framework che questo è la primary key e che è anche auto generated cioè deve stare attento il framework che ad esempio in caso di insert non deve andare a specificare un valore per questo campo in quanto essendo generato in automatico perché è un identity viene come dire prodotto direttamente dal db abbiamo il company name anche qui poi io lo scrivo così ma possiamo fare un copy incolla direttamente dal db qui direi che altre cose non le andiamo ad aggiungere abbiamo questo che è il vatcode abbiamo questo che è il rating non so se ad esempio devo indicare di default o meno ma intanto buttiamo giù una come dire un'implementazione poi vediamo se ci sono poi delle problematiche da eventualmente andare a gestire mvc table questo si chiama note quindi voglio dire che è un nullable e ho visto che c'è anche un tipo nullable string ok perfetto quindi il framework ok ovviamente dobbiamo aggiornare di conseguenza anche questo modo da gestire quindi adesso a Delfine attesa che ci sia un'implementazione seria efficace dei nullable però in questo framework è stato aggiunto già qualcosa in modo da poterli rappresentare nel momento in cui c'è una necessità di accedere ai dati perché appunto la possibilità di avere una stringa nulla che non è una stringa vuota è una necessità per cui nullable 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 string quindi le proprietà sono a posto qui a posto direi che in termini di dichiarazione del nostro record dovremmo aver fatto tutto quello che c'era da fare quindi noi al momento non aggiungiamo altra business logic ci accontentiamo di quello che abbiamo scritto semplicemente andiamo poi a utilizzare questa entità per caricare salvare i dati su db qui probabilmente ci sono anche tanti altri attributi ad esempio quante lungo il campo ci saranno probabilmente una serie di altre informazioni al momento non ho aggiunto nulla però utilizzando attributi della unit c'è la possibilità di andare a integrare questi dati con quello che serve a questo punto torniamo in questo caso sul nostro controller ok perché perché dobbiamo consentire l'accesso a quello che è la nostra risorsa ai nostri customer quindi che cosa andiamo a fare qui andiamo semplicemente a gestire la nostra API ci facciamo magari una unit di identificatori globali ad esempio questa la potrei chiamare crm.globals o const non lo so come si preferisce per eventualmente andare a indicare ad esempio una base API URL cioè l'indirizzo dell'API di base mettiamo che vogliamo mettiamo in minuscolo API magari vogliamo anche supportare diverse versioni tutti i nostri URL avranno questa radice quindi noi potremmo utilizzare questa unit del nostro controller ad esempio per andargli a dire facciamo una uses andiamo importare questo nella interface e diciamo che il nostro MVCPath cosa fa combina il base API URL con slash customers che è praticamente l'indirizzo della risorsa che vogliamo gestire ovvero i clienti in questo modo se cambiamo idea sull'URL non vogliamo più usare API vogliamo usare un'altra cosa o cambiamo la versione andiamo a manipolare a cambiare di botto praticamente tutti gli indirizzi che sono in uso nel nostro nella nostra applicazione andiamo quindi ad aggiungere altre cose ovvero qui abbiamo già importato un po' di roba di MVC framework i commons i serializer andiamo ad aggiungere anche eventualmente la parte dell'active record che dovremo utilizzare come implementiamo dobbiamo mettere le azioni le azioni da eseguire per manipolare i nostri clienti quindi qui seguendo l'esempio una delle azioni ad esempio è una procedure get customers che come indica il titolo probabilmente andrà a recuperare andrà a recuperare questo per il momento non lo metto così facciamo andrà a recuperare i clienti tutti i clienti che ci sono all'interno del nostro database un'altra operazione sarà il get customer buy id ossia il recupero del cliente che ha un id specifico e a questo punto possiamo andare ad aggiungere ad esempio un parametro id integer o id insomma secondo le convenzioni altra cosa che possiamo aggiungere o che avremo sarà una procedure update customer buy id ovvero noi passeremo un id intero per identificare il cliente e nel corpo della richiesta finirà anche i dati per aggiornare il nostro il nostro customer altra roba abbiamo la delete ci manca la insert quindi procedure delete customer anche in questo caso ovviamente il delete si fa specificando l'id del cliente e poi avremo create insert customer dove noi andremo dove noi andremo a inserire quindi const questo const fa sì che noi passiamo un parametro e questo non venga come dire alterato all'interno della procedura ma in realtà qui c'è un vantaggio in più perché ad esempio noi passiamo un oggetto customer dobbiamo andare ad aggiungere ovviamente la unit che c'è nella usis per poter utilizzare il tipo tcustomer quindi questo const essendo che questa è una classe come dire ottimizza il passaggio dei parametri grazie per il follow lmkin80 quindi ottimizza il passaggio dei parametri perché praticamente si fida il compilatore si fida a passare sì è una webpi siamo proprio sul controller quindi si riconosce anche perché c'è l'url ci sono le le tipiche operazioni quindi viene fuori una webpi rest fatta con Delphi e con DelphiMVC Framework che è un framework per creare delle webpi restful con questo linguaggio e questo ambiente e abbiamo una tabella con dati di un cliente abbiamo un'entità che interagisce con il db tramite ActiveRecord e stiamo buttando giù gli nostri endpoints per andare a gestire le operazioni tipiche che ci sono sui nostri database quindi queste sono le operazioni mi segnala le segnali in errore perché al momento non le ho ancora implementate ma all'interno dell'ide basta uno shortcut per completare al volo il corpo praticamente di tutti i metodi che io ho dichiarato quindi questa è una regola ovviamente del linguaggio che ha una parte di dichiarazione una parte implementativa però non c'è nessuna fatica nell'andare come dire a fare a tenere sincronizzate le parti perché ci pensa l'ambiente e ci dà una mano allora in realtà le procedure che abbiamo dichiarato non sono sufficienti dette così perché sono delle procedure tradizionali ma per essere visibili del framework noi dobbiamo andare ad aggiungere degli attributi ad esempio un primo attributo MVCPath per dare ad esempio un percorso per un sotto percorso o comunque un pattern per gestire il cosiddetto routing ovvero il formato dell'url che partendo dalla nostra dal nostro url di base che abbiamo definito prima cioè slash API v1 qui si aggiunge slash customer qui avremo tendenzialmente una stringa vuota perché di solito questo endpoint è sufficiente per scaricare i dati e quindi mettiamo un MVCPath senza nulla però se andiamo ad esempio a recuperare i dati di un cliente con l'ID dobbiamo mettere MVCPath e aggiungerci la parte dell'url ovvero slash l'ID del cliente qui lo andiamo a specificare usando facciamo così così teniamo una come dire una convenzione standard così sincronizziamo i prototipi dei metodi che ci sono sotto ok così siamo a posto quindi qui io l'ho scritto così per rendere l'idea ma ovviamente dobbiamo utilizzare un formato specifico che sono delle parentesi che fanno un po' la cattura del parametro e direi dollaro a id id cioè qualcosa che abbia lo stesso nome del parametro in modo che il path venga riconosciuto e il valore indicato qui che tra l'altro può essere anche forzato in maniera tipizzata ma è giusto per non mettere troppa canna al fuoco venga passato al metodo quindi dal nostro url noi ci troviamo praticamente dei parametri passati a un metodo ci servirà l'id anche nell'update poi i dati ovviamente arriveranno dal corpo della richiesta anche sulla delete e anche no sulla insert no in questo caso però ci servirà mvcpath per rendere l'azione visibile al framework qui magari possiamo anche distanziare un po' per rendere più chiaro le varie operazioni manca un'ultima cosa ovvero indicare per ogni metodo perché non è automatico cioè si può rendere tale presumo ma in questo caso noi abbiamo messo dei valori dei nomi come dire significativi per la business logic quindi dobbiamo far sì che il framework capisca che mvc http methods ok questo attributo vado a indicare dunque parametri di tipo tmvc http methods http ah no qui ci vuole scusate ci vuole un un array ok perfetto perché possono essere più di uno quindi quindi mettiamo get perché quando recuperiamo tutti i clienti usiamo una get usiamo una get anche qui nel caso di un update usiamo una invece una put quando inseriamo usiamo una post quindi stiamo mappando questo è proprio il classico rest proprio nudo e crudo a cui siamo già abituati quindi a delete e più o meno iniziamo come dire indirizzarci su qualcosa che è già vicino al risultato finale l'unica cosa da aggiungere qui c'è un altro attributo che si chiama mvc from body che sta a indicare che questo parametro nella sua valorizzazione deve essere come dire riempito andando a recuperare i valori dal corpo della richiesta quindi ovviamente questo è un tipo di dato con delle proprietà id company name quindi lui farà il match e quando troverà parametri con lo stesso nome andrà a riempire la struttura dati e noi ovviamente cercheremo di passargli seguendo questa architettura manca in realtà un parametro anche qui perché recuperare tutti i clienti mettiamo che siano un milione è un pochino pericoloso quindi in realtà quello che andremo poi ad aggiungere è una stringa una query rql rql è una sorta di sql che però può essere specificato come dire utilizzato nella query string per andare a inserire praticamente in un linguaggio parlante dei filtri o comunque degli ordinamenti quindi è qualcosa che viene automaticamente poi trasformato in sql per limitare quello che è il risultato che otteniamo ad esempio paginandolo o andando con che ne so con un iniziale ovviamente ciò dipende da come il client gestisce poi gestisce poi queste chiamate quindi direi che più o meno ci siamo come andare a fare poi queste informazioni queste operazioni quindi adesso mi assicuro che i prototipi siano sincronizzati ovvero che l'implementazione sia uguale all'intestazione ma direi di sì perché abbiamo cambiato praticamente nulla e andiamo a implementare ad esempio la insert customer i dati ci verranno passati dal body quindi noi faremo a customer insert e andremo in questo modo a inserire i dati su dbi questo funziona in virtù del fatto che il nostro tcustomer è un'entità ma eredita da questo mc a tg record che è una classe con all'interno vedete tutta già una serie di funzionalità pronte all'uso tra cui ci sarà ovviamente anche se al momento non mi balza all'occhio la nostra insert che dentro farà un sacco di azioni before insert before ci sono tutti dei metodi che potete ridefinire va a cercarsi le primary key va a vedere i campi che devono essere autogenerati se non c'è una primary key si arrabbia va a creare le sql di inserimento per andare poi partendo dal nostro oggetto mettendo dentro i dati lo eseguirà sul db quindi c'è tutto l'interfacciamento a quello che è il micro framework che abbiamo dietro per gestire poi l'inserimento su db l'accesso ai dati ovviamente avviene tramite FireDak che è la libreria di accesso ai dati presente in Delphi quello che faremo qui quindi è un render 201 created ovvero una volta che abbiamo inserito il cliente chiaramente in caso di problemi c'è l'eccezione nel caso vada tutto a buon fine possiamo restituire il 201 che è successo più 201 è più specifico è legato appunto a questa descrizione created che sta a indicare che la risorsa è stata creata come da standard poi noi possiamo andare ad aggiungere qui anche l'url eventualmente per andare ad accedere a questa risorsa ci sono questi parametri che possiamo valorizzare quindi anche qui potremmo questo customer potremmo dire dunque fare una costante ad esempio const customer end resource o customers url quindi usare un po' di costanti ma giusto per una cosa del genere in questo modo andiamo a comporla qui ma la riutilizziamo anche qui sotto dov'è? qui possiamo usare anche una stringa di formattazione andare a mettere ad esempio la base API più concatenare le varie vabbè qui è talmente semplice che customer url più e poi possiamo mettere uno slash e concatenare customer punto id to string questo perché? perché id scusate sì no giusto nel momento in cui abbiamo fatto l'inserimento si suppone che questa entità almeno stando così come viene descritta si completi con quello che è l'identity con quello che è la chiave che è stata inserita lato server quindi c'è un identity che viene generato in automatico per il campo quindi andando più più avanti ad esempio la delete sto seguendo un ordine poco come dire intuitivo ma ok qui possiamo usare addirittura la sintassi nuova con la dichiarazione della variabile inline e dire che mvc active record get by primary key qui ci va il nostro tcustomer vedete che ci sono delle funzionalità che fanno uso sia di di generic sia di cosa vuoi ok ci manca il parametro giusto il parametro eccolo qua il parametro della primary key in poche parole utilizziamo questo tipo come per accesso get by primary key gli diciamo il tipo di entità e quindi lui da questo risolve in automatico anche la tabella di origine carica i dati memorizza i valori nei campi filtrando con la chiave primaria abbiamo i nostri dati quindi cosa facciamo facciamo un tentativo di customer delete cioè di fare una del nostro oggetto se ce la facciamo andiamo a fare un render 204 no content perché non abbiamo nulla da restituire in quanto abbiamo eliminato la risorsa quindi e alla fine distruggiamo l'oggetto quindi questo active record carica il nostro oggetto con la delete facciamo praticamente le SQL dell'aggiornamento dei dati predisponiamo come risposta 204 e poi rilasciamo la memoria che abbiamo allocato get customer by d sarà molto simile ovvero avremo il nostro customer anzi direi che possiamo quasi recuperarla paro paro però qui è una get quindi dovremo fare il render del nostro del nostro customer qui vedo che c'è un object dictionary che viene creato aggiungendo un nodo data che è valorizzato con il nostro customer quindi viene creato un dizionario di chiave valori aggiungendo direttamente una chiave data con i dati del cliente poi ci sono anche vari modi di restituire i dati quindi qui seguiamo magari questa strada poi vediamo se personalizzarlo o meno sul get customer manca un parametro che è la nostra stringa rql quindi noi andiamo ad aggiungere un parametro lql di tipo stringa quindi praticamente quella specie di similquery che ci consente di filtrare i dati da restituire aggiorno anche la dichiarazione lo mettiamo anche qui su qui su però dobbiamo aggiungerci qualcosa per dire al framework che deve recuperarlo ovviamente da quelli che sono i parametri della richiesta quindi lasciamola così ma andiamo ad aggiungere un mvc come c'è from body che abbiamo usato qui sotto qui usiamo from query string e in questo modo aggiungiamo gli indichiamo che lo recuperiamo dalla query string poi ovviamente ci vuole rql il nome del parametro virgola poi un default mettiamo apice apice per dirgli che il valore di questa stringa se non indicata è vuota e va recuperata dal parametro rql che viene passato dai customer in questo modo possiamo utilizzare un'altra funzionalità che fa parte di questo framework che è in grado di costruire una query al volo interpretando questo micro linguaggio e recuperando quindi i dati in base alla query ad esempio con questo get customer noi potremmo fare un tmc active record come sempre abbiamo il get by primary key oppure abbiamo anche una select rql o one by rql quindi abbiamo delle select che prendono in input direttamente string in questo formato poi vedremo anche come è fatto quindi gli passeremo la nostra string il numero massimo di record da restituire usando i generics gli diciamo anche guarda che il valore di ritorno che voglio è un tcustomer quindi in questo modo sa qual è il tipo di dato di ritorno ma sa anche qual è indirettamente la tabella su cui andare a fare questo tipo di lavoro e facciamo quindi il render quindi questo sono i nostri come dire il valore di ritorno andiamo a analizzare qual è è una generic collection è un object list è una lista di oggetti che sono i nostri i nostri in questo caso customers quindi qui recuperiamo i nostri customers e andiamo a fare di nuovo render creiamo questo dizionario gli aggiungiamo un campo data qui viene fatto per convenzione gli mettiamo questo come valore quindi in questo caso non è un singolo customer non sono più customer qui addirittura c'è uno step aggiuntivo perché ci sono altri parametri se è realisation action quindi qui accetta un metodo anonimo perché dirvi supporta anche i metodi anonimi che è una procedure dove il framework ci va a passare oggetto per oggetto e noi siamo in grado quindi avremo il nostro customer di tipo tobject e abbiamo un parametro links di tipo sorry mvclinks per generare quelli che sono i cosiddetti link per il supporto al livello di ipermedia quindi i link che per ognuna delle risorse che noi andiamo praticamente a restituire descrivono dove trovare o delle informazioni correlate o quali sono gli end point da indicare per accedere a informazioni correlate o eseguire delle azioni ad esempio qui nell'esempio lui va ad aggiungere un si chiama links un ref link e qui aggiunge come riferimento alcuni probabilmente sono mi sembra di capire che sono standard anche se probabilmente ho dimenticato anche di importare una unit o sono all'interno di costanti o di adesso provo a completare ok ce l'abbiamo fatta quindi questo ad esempio è per ogni oggetto vi va a indicare qual è il link a cui potete trovare la risorsa ovvero la url di base più la risorsa customer più forse in questo caso verrebbe comodo usare un format percentuale 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 s e slash e poi percentuale d che è il nostro ld dell'elemento oppure mettiamo tutto assieme cioè questa è la prima parte dell'url col format usiamo dei segni a posto tipo una stringa slash un numero ovviamente la string è l'url di base e il numero è praticamente il nostro andiamo a capo che facciamo prima è il nostro tcustomer customer è un object che fa castato per accedere all'id aggiungiamo l'id e siamo praticamente a posto qui lui cosa fa sto guardando un attimo se riesco a renderlo un pochino appena più leggibile forse era meglio scriverlo in maniera diversa ma è giusto perché così abbiamo anche altre versioni mettiamolo così che va benissimo ovviamente qui sono string quindi devono stare quello è l'add finale facciamo parentesi di troppo probabilmente quindi abbiamo aggiunto questo link ok ma possiamo di nuovo aggiungerne altri per formattarlo correttamente adesso magari lo farò formattare lui così vediamo come propone li mette tutto assieme quindi ho fatto prima ok diciamo che non mi piace molto la leggibilità di questa cosa ma l'importante è che un minimo si capisca ad esempio rel relazione self se stesso quindi dice praticamente che le informazioni si riferiscono all'oggetto in quanto tale diciamo che questo non è una parte che viene implementata sempre su tutte le come dire le le librerie su tutte le api quindi ad ogni modo application json ok pronti via quindi end end va benissimo se proprio vogliamo fare una struttura quindi questo metodo anonimo nel momento in cui lui recupera aggiunge questo dizionario il numero a questi oggetti noi li andiamo a castare e per ognuno ci facciamo passare il riferimento e un parametro che sono un'interfaccia per gestire i link delle informazioni correlate all'oggetto quindi noi lo castiamo e andiamo a mettere l'url della risorsa indichiamo che l'url si riferisce a se stesso il formato eccetera della chiamata quindi andiamo a descrivere aggiungere dei metadati sulle nostre informazioni ci manca ad esempio ancora qui si è andata a capo in maniera un po' barbina ma perché la formatazione andrebbe un attimo tarata almeno su quelli che sono i miei gusti anche qui update customer id la solita storia ovvero lavoriamo su un singolo customer quindi abbiamo il nostro customer che recuperiamo usando l'id e cosa andiamo a fare andiamo a fare un tentativo col customer e alla fine siccome lo recuperiamo come oggetto dobbiamo rilasciarlo context context quindi una variabile che ci consente di accedere al contesto dell'operazione quindi è un oggetto che vi dà informazioni sulla sessione sul server su variabili temporanee sulla richiesta sulla risposta l'utente corrente quindi il classico contesto http che esiste in quasi la totalità dei framework web contest request body for quindi qui quello che andiamo a fare è come dire recuperare dalla richiesta il corpo trasformandolo in un customer e andando a salvare i valori all'interno di questo customer che abbiamo recuperato quindi di fatto lo carichiamo accediamo al corpo della richiesta gli diciamo in che tipo va convertito gli passiamo una proprietà di quel tipo in modo che ci sia un travaso delle informazioni dal corpo della richiesta alla nostra entity avendola caricata avendola modificata lanciando un customer update otteniamo di fatto il salvataggio di quelle che sono le modifiche al nostro oggetto come risposta possiamo fare un render no content quindi non restituire nulla semplicemente stiamo dicendo che la nostra risorsa è stata aggiornata oppure andare ad aggiungere qui come al solito l'url come fatto già in altri contesti ad esempio quello dell'inserimento se riesco a trovarlo qui andare ops ho selezionato troppo andare ad aggiungere qui render 204 no content e l'url del nostro l customer id to string quindi non diamo un contenuto di risposta se non però suggerendo un quello che può essere un redirect quindi la location a cui si trova l'oggetto che abbiamo già che abbiamo aggiornato oppure potremmo restituire come corpo ad esempio i dati dell'oggetto aggiornato abbiamo come dire un po' tutte queste queste possibilità abbiamo messo più o meno tutto la insert la get la delete abbiamo più o meno implementato tutto non sappiamo se funziona ma a questo punto andiamo eventualmente a dare un'occhiata una cosa che manca che abbiamo proprio tralasciato è il fatto di dire abbiamo l'entity abbiamo i riferimenti su quali sono le tabelle abbiamo l'applicazione ma non li abbiamo detto da nessuna parte come connettersi alla nostra al nostro database perché il database ovviamente non è una formazione che il nostro tool si può inventare da solo come lo facciamo facciamo un build per generare la nostra applicazione in modo che se noi andiamo da gestione risorse ci spostiamo nella cartella dove lui ha inserito il nostro exe più file semi compilati eccetera possiamo andare ad aggiungere un fileini un nuovo file che è un classico fileini che è un file di testo per i setting dove di fatto mettiamo i parametri di connessione quindi faccio proprio un documento di testo lo chiamo fd connections connections defs punto ini in questo caso che è il classico file di testo vuoto in questo momento e con notepad usando quello che vogliamo andiamo metterci dentro le informazioni per l'accesso al nostro al nostro db connection defs punto ini questo file è una struttura come dire particolare sono poi alla fine poche informazioni utf8 quindi lo standard è utf8 si crudapi version 1 noi in realtà l'abbiamo chiamato crm il nostro applicativo all'interno ci mettiamo ad esempio database questo forse potremmo anche recuperarlo facendo una cosa un pochino più immediata ossia anche solo proprio per accelerare creare un progetto vuoto magari su windows così vediamo tanto lo vediamo anche a design time andare a creare una fd una fd connection cioè una connessione db che ha il suo connection editor scegliamo come driver ms sql che si quel server andiamo a mettere come database diciamo copiamo un po' le informazioni che ci sono che ci sono qui database registration info quindi server name mettiamo quella che è la mia macchina server non lo vedo qui database l'abbiamo chiamato crm username sa password è una master key che è uno standard un po' tanto una macchina di sviluppo quindi non è non è assolutamente problematico application name se lo vogliamo indicare da un'informazione a sql server di chi si sta collegando eccetera eccetera quindi un po' di informazioni che non ci interessano vediamo se se si collega ok perfetto a questo punto come dire generalmente quello che mi piacerebbe ottenere è tog login prompt quello che avrei voluto fare era salvare le informazioni su file ma forse mi ricordo male io il beh che ho qui il template quindi facciamo presto tanto ci vuole angelo check esiste ancora ed è vivo è vegeto è funzionale allora database crm user underscore name fa vedere ho perso un attimo il segno abbiamo user underscore name sa abbiamo password uguale master key server uguale il nome della mia macchina vabbè la porta drive spero che che lui prenda la classica di default non penso neanche che qui sia specificata secondo me come la cosa che manca il driver id è msql perché nell'esempio si usava pg postgres qui driver id uguale msql e direi che più o meno forse dovrebbe esserci tutto intanto salviamo poi vediamo se manca qualcosa vedremo vedremo cosa manca nello specifico quindi intanto chiudo questa cosa qui niente salvataggio tanto era una cosa volante giusto per testare che il database fosse tutto a posto e quindi non è esoterico come usql è solo vecchio depopolarizzato ma questo concetto del depopolarizzato può anche da se ma io non vedo questo vecchio non vedo cos'abbia di vecchio visto lo trovo molto leggibile e comunque voi voi chi nel senso mi da del voi o intende io io sì tra le altre cose lavoro anche in defi anche con viso studio ok quindi direi che le operazioni ci sono il file di configurazione l'abbiamo messo come dire cosa dovrebbe mancare direi nulla sempre ci manca da testare ovviamente se la cosa funziona o meno lanciando eventualmente il stavo controllando se ci sono altre cose da aggiungere ok dobbiamo aggiungere middleware giusto cioè attivare nel nostro modulo principale quella feature qui in mezzo ci sono la dichiarazione ad esempio add middleware abbiamo un mc active record middleware che adesso non so poi dovremmo cercarlo vabbè ci sono seguiamo lo standard la naming convention e quindi qui sarà probabilmente così c'è un middleware da attivare in modo che vengano caricati i ok perfetto i servizi connection defname fd connection ah ok sono qui i nomi dei file ok questo lasciamo com'è che è esattamente quello che abbiamo indicato qui come nome di file e come nome dell'applicazione come connection abbiamo messo crm questo probabilmente glielo dovremo dire e glielo diciamo quindi per il resto lasciamo tutto com'è ok dovremmo testare la nostra API però intanto potremmo fare una cosa intanto facciamo un nostro build che è relativamente veloce lanciamo il server accediamo alla nostra applicazione aggiungiamo quello che manca all'url e vediamo se succede qualcosa a non connection default quindi ci sta dicendo che non conosce la connessione di default spero di non aver sbagliato il nome direi che l'ho chiamata così effettivamente alla stessa età di java e anche di javascript è comunque più nuovo di c e c++ ma sappiamo benissimo che l'età non conta è comunque l'ultima versione di due mesi fa quindi il TOB index è stato molto discusso in questo periodo perché adesso è risalito prima era in fondo è una cosa che il TOB index è un è un indice basato più che altro su quanto il linguaggio viene citato ad esempio su stack overflow dove i linguaggi sono citati quando qualcuno ha problemi con quel linguaggio e ricerca delle soluzioni ovviamente più usato più un linguaggio citato ma non è a volte necessariamente come dire un indice di utilizzo del Fiamoto compatibile verso come dire in termini di compilatore con il codice esistente non viene reinventata la ruota periodicamente ogni ogni uno due anni come ad esempio avviene magari non so con dotnet framework poi dotnet core dotnet 6 cambiando continuamente framework le universal app le windows store app cioè ci sono delle mode che si avvicendano che alla fine generano sempre ogni volta hype poi si fanno poi sempre le stesse applicazioni sempre le stesse cose quindi non capisco bene qual è il feedback che mi sta dando e quindi avrei bisogno di capire unknown connection default magari lo lancio in debug che forse è una cosa anche un pochino più più intelligente comunque se c'è curiosità nel mio canale ma anche su youtube c'è il comando per visualizzare l'url ho fatto diversi filmati dove faccio vedere come dire come costruire ad esempio delle applicazioni delle applicazioni mobile che girano cioè applicazioni cross platform single source stesso sorgente che girano su windows e girano anche su android su ios su mac quindi potenzialmente multiplattaforma dallo stesso sorgente praticamente cambiando la piattaforma di destinazione un po' come avviene con flutter però producendo delle applicazioni che sono native quindi il codice macchina è quello della piattaforma di riferimento e nelle live precedenti abbiamo fatto anche qualcosa sull'applicazione mobile una rete peer-to-peer abbiamo fatto il wizard il classico che introduce le funzionalità di un'applicazione mobile abbiamo fatto praticamente delle applicazioni quasi complete quasi funzionali molto spesso senza scrivere poi una riga di codice quindi insomma secondo me ci sono più potenzialità di quello che il marketing riesca magari a far emergere e quello che pubblicamente non si sappia quindi questo per dire se magari uno è curioso di vederlo ad esempio le due live sulla user user onboarding secondo me è quello sull'app tethering sono abbastanza interessanti perché si adesso forse sono già passati due settimane quindi forse le live non ci sono più ma su youtube le ho le ho caricate sono magari un pochino più curiose perché sì praticamente è un framework che si chiama FireMonkey che è una libreria grafica che ti consente praticamente di creare delle interfacce utente ma anche c'è una runtime library che è comunque cross platform di suo e c'è una libreria che è cross platform nel senso che i controlli che si usano assumono lo stile tipico della piattaforma o eventualmente possono anche essere customizzati per renderli come dire appunto custom al 100% cioè io ho un pulsante posso avere un pulsante tradizionale che appare su windows come siamo abituati a vederlo su windows su ios come siamo abituati a vederlo su ios e praticamente andando a cambiare la compilazione mettendo android ci troviamo l'applicazione in android con i suoi stili ma l'alternativa è che si può ogni pulsante ogni elemento può essere stilizzato come con i css cioè posso andare lì e dirgli no adesso i pulsanti sono un riquadro rosa con un'ombra e uno stile glow di un certo colore e quindi appare così su tutte le piattaforme è molto versatile la cosa carina è che le applicazioni le puoi testare praticamente su windows a meno che non si usino delle pialle specifiche cioè importate proprio secche proprio dalla piattaforma e a quel punto magari c'è qualche ifdef da aggiungere ma utilizzando quelli che sono i framework già inclusi nell'ambiente tu praticamente sei su windows fai doppio clic su android e lanci l'applicazione su android basta collegare il device metterlo nella modalità sviluppatore attivare l'android debugger e vedi che l'ambiente parte lancia l'applicazione su android poi a seconda dei controlli che sono stati utilizzati si riscala e quindi cerca di adattarsi poi è chiaro che sono dispositivi talmente differenti che per certi versi il desktop magari viene studiato in un modo e il mobile in un altro ma tecnicamente se non c'è motivo l'applicazione gira su io avevo provato android perché android è quello più rapido in quanto non c'è bisogno del mac come nel caso di ios che è un requisito ed è molto più esbrigativo cioè lì fa proprio la pick up lo copia via usb lo installa lo lancia e con un apposito programmino lavoriamo in react native ci chiamo il dom libreria js sì chiaramente chi è abituato a lavorare ad esempio con linguaggi del front end grazie a a framework come react native e simili come electron eccetera praticamente usando lo stesso linguaggio crea le applicazioni mobile ad oggi direi che i dispositivi sono talmente veloci talmente potenti che come dire questo non dovrebbe comportare delle grosse problematiche di prestazioni però a tutti gli effetti quelle applicazioni lì spesso sono un browser che integra un'applicazione web a cui offre diciamo l'accesso a qualcosa in più rispetto a quello a cui si accede normalmente da un browser tradizionale però sono sempre applicazioni web comunque sì sono funzionali è chiaro che non ti devi studiare un altro linguaggio ovviamente le tecnologie che ci sono oggi sono tutte molto interessanti diciamo che dal punto di vista delfi la cosa molto vantaggiosa è che l'interfaccia si realizza con dei componenti dei controlli che si trascinano da una palette si allineano si configurano quindi molto del codice è già scritto molto del codice che si può scrivere si può componentizzare si può come dire fattorizzare per essere dentro scatoline che si utilizzano sì chiaramente le performance secondo me sono una cosa da considerare per un po' il lato videogiochi magari quelle applicazioni però è anche vero che lato applicazioni business io ho visto dei clienti che con quel dito cioè se mentre su windows abbiamo un'applicazione deve caricare una griglia e per magari per un attimo rimane rimane bloccato e come dire aspettano lato mobile sono tutti frenetici cioè c'è una frenesia nel tenere un risponso che se l'applicazione ti ritarda quell'attimo l'utente va in perché ci siamo siamo abituati veramente bene quindi delfi object oriented sì delfi è sia procedurale che object oriented cioè supporta entrambi i paradigmi infatti qui noi stiamo lavorando con questa è una classe questi sono sono dei metodi questo è un campo privato e quindi è possibile fare un mix però a parte object oriented nel linguaggio ci sono anche i generics perché ad esempio io ne ho fatto uso prima qui c'è una classe questo è un metodo statico per dire tcustomer questo è un tipo quindi questo è un esempio di generics questo è un metodo anonimo ovvero quando faccio il render di un dizionario di certi clienti per ogni cliente mi viene chiamata questa procedura che io non ho messo non ho messo il nome e quindi queste sono le funzioni anonimi di javascript quindi caratteristiche funzionali iOrderFunction esistendo appunto i metodi anonimi si possono si possono fare c'è chi ha scritto qualche articoletto interessante c'è un programmatore che spesso scrive se dico il nome faccio fatica si chiama Primots però il come dire il cognome è un po' complicato e quindi magari ce l'aggiungo così Primots andon design pattern functional programming in Delphi sia parte sc qualche libro ci sono tutti i pattern strutturali che si possono poi immaginare dal punto di vista cavolo non trovo il blog forse questo qui allora il blog è questo forse se trovo un post perché è scritto proprio anche un libro come proprio sul functional programming esatto capitolo 11 c'è c'è libro il libro io ce l'ho comunque perché l'ho comprato quindi Primots Primots però non la vedo qua ah no c'è design patterns le adt di adt di askel non so cosa sono quindi forse qualcosa di equivalente beh askel è proprio funzionale o niente quindi lì a me incuriosisce cioè l'avevo visto ma Primots grazie Maurizio perché il nome detto a voce è impossibile dunque dove era che l'ho visto prima functional ma è giusto perché ah è qua è sotto gli occhi magari se c'è un pezzo di codice si capisce un po' la questo filter cioè ci sono funzioni cioè metodi che vengono invocati e che di fatto ti danno una funzione che fa qualcosa cioè il risultato è una funzione invece che il risultato quindi e non di Rust no Rust non lo conosco quindi adesso mi segnerò un po' di cose perché me le devo andare a vedere io conosco C Sharp qualcosa di Java conosco Delphi mi sto ripassando il qui c'è un filter c'è il map anche qui poi si ci sono un po' di c'è un esempio con gli numerable quindi c'è qualcosa che assomiglia un po' al link che troviamo su C Sharp cioè il fatto di recuperare un valore alla volta quindi cioè programmazione funzionale c'è chiaro che secondo me dal punto di vista dell'ambiente si utilizzano magari più favorevolmente degli altri paradigmi cioè l'OPI sì quando i linguaggi funzionali secondo me nel momento in cui uno ci entra dentro dopo un po' come ho visto tu userai sicuramente il javascript gli observable o RX che che sono beh no non sono cioè proprio funzionali però diciamo che il concetto è un po' quello il fatto di vedere tutto come un flusso e l'Xero ho visto una presentazione fatta ormai più di due anni fa perché dopo causa covid non abbiamo più avuto modo di organizzare delle serate c'erano user group dove andavamo organizzare a volte delle serate dove c'era una presentazione di qualche linguaggio o tecnologia particolare quindi quello l'ho visto mi piace molto anche il concetto del fatto di essere always running per come dire per sua per sua natura e quindi non l'ho mai utilizzato in produzione però ho visto qualcosina ce ne sono talmente tante tecnologie interessanti è arrivato un mi esplosa l'orecchio grazie per il follow mac and air tu ce ne sarebbe talmente tante io alcune ho dato un'occhiata poi dopo non sparti queste adesso mi terrò il link così vado a che poi queste cose mi intripono perché come tutti gli sviluppatori quando vedo delle dopo è chiaro che a seconda poi dei progetti che mi capitano anche per lavoro eccetera ci sono degli ambiti dove come dire non sono l'unico sviluppatore quindi bisogna un pochino utilizzare tecnologie anche approcci che siano poi alla portata del resto del team di sviluppo a me piace sperimentare però sono anche un early adopter per molto spesso creo più danni di quanto dei benefici perché dopo c'è chi si trova magari a dover gestire un codice se non gli spieghi tutto diciamo l'iter con cui sei arrivato a quella soluzione si trovano in difficoltà comunque vedi in delfi c'è praticamente tutto alla fine sono veramente poche le cose che secondo me dal punto di vista della sintassi basterebbe qualche scorciatoia per i metodi anonimi per scrivere un po' meno ad esempio delle lambda expression o dei tipi nullable incorporati meno faticosi rispetto a quelli che richiedono delle librerie delle implementazioni come dire separate troppo roba se python typescript l'ho visto ad esempio typescript l'aveva approfondito solo nell'ambito dell'essere appunto javascript tipizzato poi ho visto result type ho visto tutta una serie di di percorsi anche con quel transpiler che mi hanno fatto scoppiare la testa perché quando ho visto che se tu fai un if in cui controlli che una proprietà c'è poi come dire correttamente tipizzato poterla accedere utilizzare quindi della roba che mi ha lasciato veramente basito e ci vorrebbe troppo tempo per come dire andare a approfondire ecco secondo me è lì ma c'è un po' magari sul linguaggio da aggiungere qualcosina per renderla ancora su certi aspetti meno verboso anche se parlando ad esempio di visual basic sicuramente il visual basic è ancora più più però se se fai eventualmente delle live su asker anche introduttive così non si sa mai un'occhiata ce la do volentieri perché l'avevo visto utilizzare quando facevamo dei coding saturday ci trovavamo al pomeriggio al sabato e ci davamo i classici codcata c'era un gruppo di lavoro dove ci inventavamo un problema e quindi qualcuno usava asker qualcuno qualcuno usava c sharp e così quindi ho visto la sintassi però non avendolo mai usato in produzione non 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 sono afferrato quindi diciamo che ok sì io in Piacenza è un po' vecchio quel post lì ma dunque tornando a noi qui non funzionava abbiamo detto questo benedetto questa benedetta API e io non ho capito il perché però adesso eventualmente darò darò un'occhiata allora 80 80 API V1 ah forse manca questo ah sì ok manca forse la unit la unit del driver fisico per poter ogni tanto streamato ask ma lo studio è noioso non viene mai nessuno beh sai magari come dire più che più che uno studio così magari cosa che già sai se fai tipo una presentazione sì ovviamente qui javascript e altre cose ma hanno per la maggiore perché anche perché soprattutto se business logic come in questo caso cioè sicuramente le live dove ho messo delle robe visuali sono molto più allettanti di stare qui a vedere del codice però secondo me magari se è un qualcosa fatto a tutorial almeno le prime volte qualcuno si potrebbe interessare e dunque vediamo di risolvere questo problema secondo me manca SQL Generators sì questo mi manca perché io poi sto seguendo sto seguendo un tutorial ma non faccio quello che c'è scritto nel tutorial e quindi è impossibile che poi le cose funzionino come devono e quindi allora qui ci manca un un SQL Generator Generators ok vediamo se questo risolve la problematica c'è da dire che abbiamo scritto tutto per un'ora senza neanche provare quindi beh adesso qualcosa esce invalid con un name note ok qui invece sono sommaro io perché giustamente gli ho dato un nome diverso da note e notes quindi qui facciamo refactoring e chiamiamolo notes per conformità e qui chiamiamolo notes per lo stesso motivo quindi se gli dico dei campi che sono che non hanno il nome che poi si deve aspettare mi sembra anche è giusto che poverino scoppi in maniera ok qualcosa è è sceso siamo riusciti a ottenere come dire MBC Framework è un nome molto originale Delfi in realtà si chiama Delfi MBC Framework quindi ancora in realtà poi vabbè comunque anche Microsoft che aveva sp.net ha fatto sp.net MBC e quindi anche loro non è che brillanino di fantasia però effettivamente è un framework MBC per Delfi e quindi il nome è come dire autoesplicativo e dice tutto quello che c'è da sapere quindi io sulla fantasia non dico niente perché anch'io come vedi CRM Customer l'altra volta abbiamo fatto delle tabelle con la to do list quindi è una fantasia veramente estrema ogni tanto mi sogno qualcosa di più fantasioso ma poi svegliandomi non me lo ricordo purtroppo quindi direi che funziona nel senso che ha fatto accesso al db ha recuperato un array perché qui abbiamo ovviamente l'underscore c'è l'id10 company name quindi ha recuperato un po' di informazione per cui l'accesso adb è riuscito a farlo la get l'ha fatta quindi iniziamo già a vedere qualcosa che si muove per fare le altre operazioni dovremmo coinvolgere un tool che si chiama insomnia cioè almeno io uso quello invece di postman che mi piace di più e che è lo stesso che citato nel tutorial però magari questa cosa adesso è un po' lunghina eventualmente ce la teniamo per un prossimo appuntamento quindi tanto il codice più o meno si è visto magari adesso finendo l'esempio eventualmente se ci sono delle cose da riprendere la prossima volta si può partire da qui però era un modo per come dire riprendere la sperimentazione di questo framework però partendo da qualcosa di già pronto che adesso è un risultato almeno come dire unendo dei puntini dall'inizio alla fine quindi partendo da un modello l'API il database eccetera mettere noi proprio il codice non è proprio il massimo per ricordarsi in comportamento si ma alla fine ci sono dei framework che sono diventati famosi anche in base al nome perché hanno creato un po' uno standard di fatto quindi però sì io non li lascerei mai scegliere gli sviluppatori ci vuole qualcuno del marketing perché magari le idee migliori quindi il framework funzioni dateli carica magari adesso se poi proseguiremo con la scoperta di qualche altra funzionalità mettiamo in piedi anche un po' le varie azioni con insomnia per testare i vari end point e vedere un po' tutte le funzionalità che ci sono per recuperare salvare quindi fare praticamente il demo completo però per il momento direi che un risultato l'abbiamo raggiunto poco sforzo molto dichiarativo cioè alla fine poi il codice che noi abbiamo scritto è quello dell'entità che è questo qui con le proprietà e gli attributi per dargli diciamo la guida verso il database fargli capire com'è la struttura eccetera abbiamo fatto il file di configurazione del db il controller che recupera parametri dalla query string o dal corpo della richiesta per fare le varie operazioni è grosso modo più o meno l'end point cioè la gestione di questa risorsa è completo perché ci viene in aiuto la parte di upting record che è un come dire un po' in disuso come pattern di per sé però è anche vero che come dire anche se in disuso è molto pratico e molto diretto e quindi per certi versi oddio si è tutta la grafica si è cosa sta succedendo ok niente per il momento berlusca questa è una fantasia fin troppo fin troppo esagerata quindi allora ok adesso magari cambio un attimo giusto giusto la visualizzazione siamo relativamente in pochi ma già è giovedì sono le 11 chi vuole che ci sia come dire a programmare a quest'ora se non un poveretto come me ok direi che per stasera ci fermiamo qui ricordo sempre per chi è interessato la prossima settimana c'è il delfi day che è una conferenza in realtà si parla non solo di delfi ma si parla anche di altre tecnologie come database firebird e quant'altro se può come dire interessare lascio in chat anche l'indirizzo penso di sì cioè che sia stato usato anche lì ma è un pattern generico quindi lo si trova implementato sia per dotnet sia su delfi sia su su java si trova praticamente dappertutto quindi è proprio cioè su wikipedia c'è proprio l'active record documentato a pieno per file per segno quindi e poi un pattern abbastanza banale cioè ogni tabella ha la sua entità e l'entità o tutte le proprietà che sono i campi contiene anche i metodi per fare le operazioni crude e quindi generalmente si descrive così io mi ricordo che ad esempio su dotnet usavo subsonic che era un un framework inizialmente basato su active record poi con l'avvento di link e tutte le le varie feature correlate come entity framework eccetera il paradigma per fortuna è cambiato perché secondo me link è più la tecnologia link molto più più efficace mi piacerebbe che ci fosse qualcosa di simile a realtà qualcosina c'è perché c'è spring for delphi che è una libreria che è qualcosa di molto simile a link in termini di numerable di espressioni lambda quindi programmazione appunto già più funzionale però è una libreria di terze parti bisognerebbe sai di effetti gogo sì il problema è quello lì che ad oggi si ragiona un po' più dependency injection quindi è già come dire un pattern che viola di per sé dei principi solid perché c'è un oggetto che è i dati più la logica per salvare e quindi c'è lo storage e la rappresentazione assieme e quindi già molti puristi però bisogna dire che in pochi minuti lo si fa anche con altri framework però in pochi minuti questa è poi una delle alternative cioè una cosa che in questo framework c'è si può usare ma nulla vieta di sfruttare dependency injection e come dire utilizzare una forma diversa cioè lì viene lasciata la libertà e questo viene offerto solo come scorciatoio come strumento perché qualcuno magari lo preferisce preferisce lavorare così e quindi di per sé più soluzioni ci sono meglio è io l'ho usato quella perché se inizio a mettere giù dipendenze e altre cose rischio sempre di avere una cosa come dire virtuale che poi non funziona non si riusciva mai a vedere qualcosa di realmente funzionato l'ho detto facciamo un esempio dall'inizio alla fine poi sì non c'è non navighi bene il codice sì comunque però l'ho usato a suo tempo ho un progetto fatto così è leggibile tutt'oggi funzionante quindi con un altro linguaggio però funziona quindi ad oggi preferisco senz'altro ben altri ben altri paradigmi concordo perfettamente però ovviamente sviluppatori sono tanti sono tante abitudini quindi quando il codice è leggibile funziona e il cliente è contento per alcuni diciamo che hanno raggiunto già un buon risultato quindi io sono un po' un purista un po' un pignolo su queste cose quindi sì si può anche brappare ma alla fine poi si fa prima usare un altro paradigma cioè non usare questo o comunque magari farsi un service un qualcosa che è iniettato magari dito le quinte usa active record per fare l'operazione di storage a quel punto puoi usare i benefici di una di una tecnologia utilizzando sempre delle interfacce o comunque avendo le cose come dire scollegate tra di loro in modo da poterle sostituire e quindi quell'active record diventa un po' il tuo dal specifico che puoi in qualsiasi momento sostituire con un'altra cosa poi sì dipende esatto dipende anche dall'applicazione quanto deve diventare grande e tutto il resto quindi ci sta benissimo quindi tutti questi questi ragionamenti io ho le mie preferenze però non sono come dire integralista o certe cose perché ho visto anche delle delle applicazioni tranquillamente realizzate con dei pattern che a me non piacciono ma che comunque sono venuti sono venuti bene quindi io non dico niente e anzi più è versatile meglio è ok quindi è che siamo comunque in pochi per fare un ride questa sera perché non so se c'è la partita a volte ci sono delle serie dove c'è più di tanta gente a volte meno e quindi io comunque avendo come dire la mia pianificazione cerco sempre di collegarmi a fare qualcosa che può sempre tornare utile anche perché secondo me anche dalla dalla chiacchierata di stasera poi escono fuori delle cose interessanti ad esempio adesso vado a recuperarmi il link di prima rosetta code che così vado a vedermi di cosa si tratta e poi magari ci sono delle altre cose che che potrebbe essere interessanti da approfondire quindi per quanto mi riguarda il PHP è una delle cose che mi piace meno ma so che c'è chi realizza anche degli e-commerce complessissimi addirittura programmazione oggetti anche lì a me non piace la sintassi però infatti per cui sì anche lì ci sono dei pattern magari vecchi che adesso non si usano più molto molto interessante quindi sì sono concordo direi su tutto per cui ok niente io ringrazio chi si è collegato chi vedrà questa live indifferita che può interessare chi si collegherà direi che concludo qui la prossima settimana vedo se riesco a fare delle live o prendere magari una scopri data code sì sì no ma infatti l'ho già l'ho già aperto ce l'ho qua sotto poi me lo vado me lo vado a vedere ho già sbirciato la pagina ma so già che sono cose che mi intrippano quindi poi possono essere degli spunti interessanti per vedere delle cose grazie grazie mille angelo immagino sarà il nome dal nick spero di ritrovarti anche altre volte poi magari se se una volta si vuol fare una cosa su askel e io me la guardo in questo caso per me si si può sempre fare perché sono cose che mi incuriosiscono e quindi grazie grazie di nuovo e ci aggiorniamo poi alla prossima live direi buonanotte e anche visto che è giovedì domani e venerdì buon weekend e direi alla prossima ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.